Non sei il tipo da poesie sussurrate, fiori delicati e tiepide carezze. Tu sei il fuoco che brucia, la passione che esplode, il bacio rubato. Per te e solo per te potrei entrare da AM Idee per farti un regalo. AM Idee di Antonietta Mocchi. Sofisticate porcellane, preziosi cristalli, coloratissime ceramiche, articoli per la casa e posaterie. E se volete sposarvi subito, le bomboniere di AM Idee sono passioni travolgenti. AM Idee di Antonietta Mocchi. Anche per Liste Nozze. Il Viale Fiume 42 a Bagnaia.